Ciao a tutti ragazzi, Steve801 sta su un nuovo video e siamo su Drunkuit e oggi siamo su Drunkuit, è un gioco di intelligenza, io provo a ragionare con l'intelligenza, io ci provo. Trovo la frutta più grande a livello 1, la frangola, quella più grande al momento è l'amella, però è un gioco di intelligenza, la più grande per me potrebbe essere, sì, sì, andiamo avanti, quante altre ci sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, va vabbè. Facile, che è il più alto? Giustamente è lei. Non è lei. Il sole? Vabbè, no, non va, però. Io ho visto un video che le cose si possono muovere. Sì, lo so, vabbè, qui, qui, sì, questo, mamma mia raga, è troppo facile. Crea un rettangolo. Problemino, ci vediamo quanto l'ho capito. Ciao, ciao, ciao. Ok, ragazzi. Io ci sto provando ma non esce niente fuori. Mi sono percat... Ah, c'è, ah. Ragazzi, non sto campendo, sinceramente. Questa cosa mi sta battendo il cervello. Vabbè, andiamo avanti. Non mi sono tutti, ci sono in un pentagramma. No, uno, due, tre, quattro... No. Sei. Ma che ne quante ci sono, raga? Mi spiegate sta roba. Non sto capendo. Al momento non capisco niente. Non so come fare. Frattempo mi erano messaggi d'altro telefono. Nel numero 6, quanti potrebbero essere? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette... No, ma... Potremmo fare una cosa, raga. Non veramente fare una cosa. Io che scuardo? Io posso mettere... Uno, due, tre, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, unici. Vabbè, via, ciao. Facile, easy. Scopri il fuoco più grande. Scopri il fuoco più grande. Io li muoverei. Ciao. È questo. Vabbè, dai. Quel numero potrebbe esserci sotto il parcheggio. Bella domanda. Veramente bella domanda questa. Mi ammazzo. Vado via, ciao. Sì, è ancora qui. Sotto una macchina. Pensiamoci bene. Pensiamoci, pensiamoci, pensiamoci. Sotto una macchina c'è... C'è il venti, il ventisette, il quindici, il ottanta. Sotto una macchina potrebbe esserci. Non lo so. Venti, ventisette, quindici, ottanta. Ma aspetta. Non si muove? No, vabbè. Ciao. Nove. Tutto il punteggio perché mi piace. Ok, era così facile. Successivo. Sveglia il gufo. Domandarevi il sole. I soldi si muove e vai. Via. Ragazzi, sto sopra andando a mandare... Via! No, è andato via, finalmente. Ok, buono. Sto andando abbastanza bene. Dai, 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 dai. Vieni avanti qui. No, un... Eh. Nove, nove. Che calcio dovrebbe essere nove. Eh, infatti, facile. Dove qua, tocca i frutti a sinistra e destra, quindi tocca il cerchio e il rettangono. Così? Così? Le saggono, aspettate un minuto. Sì, dovrebbe essere così. Non capisco niente. Non capisco niente. Non capisco niente. Non capisco niente. Sto impazzendo. Giuro, mi ammazzo. Ora, facciamo il cerchio e il rettangolo. No. No. Ma com'è? Ragazzi, ci vediamo molto, l'ho capito. Dura troppo il video. Ok ragazzi, io sto provando, sto provando a fare due cose, però non mi è uscito. Ok. Allora, adesso, devi vincere la partita. Se devo vincere la partita, come faccio? No. Ragazzi. Aspetta. Prendete due dita e chiamate sopra il Jerry. Lo sapevo, funziona sempre. Ok. Trovo il pochino più piccolo. Si muovono. È inutile. No, veramente? Io me ne vado. Raga, io me ne vado. Mamma mia. Però il colore... Trovo il colore... Nora. Gesù, inizia con me. Io ho ghiacciato. Il nero per leggere era quello. Trovo l'uno dei capelli. Si muove qualcosa? Direi facile. Raga, mamma mia. In questo video... Io il video faccio da dieci minuti. Mi sono già detti tutti questi livelli. Bene. Aiuto, l'Anna... L'Anna... Sto bevendo qualcosa. Sto bevendo qualcosa. No, no. Questo qua non l'ho capito. Ma io devo far bere un'altra cosa. Posso muovere? Ragazzi, stai salto. Mi metterò su un nero perché... Ragazzi, metterò il telefono. Eh, infatti. Mi ero su. Io l'ho messo pure due volte, dai. Che ca... Lo so. Se quello là la farm è di un col... Ragazzi, ma io sono troppo intelligente. Però... In questo video sta succedendo di tutto di più. Io non lo so neanche. Boh, cazzo tu. Aiuto. Aiuta. Dov'è il mio... Il mio anello. Ecco, dai. Lo so che è dentro, ma... Si è aperto. Ma lo dò al cane. Lo dò al cane. No. Ma perché così cringe il suo gioco? Vuoi leggere il fabbetto alla gente che ci piace più. Nella mia classe gli piacciono i cd.